Natale è il periodo per stare con i propri cari, rilassarsi ma anche brindare con la propria squadra del cuore. Porta sulla tua tavola il Franciacorta Rosso Nero, lo spumante dei milanisti scelto dal club stesso per festeggiare i propri successi. La bottiglia è vestita rigorosamente dei colori della squadra, il rosso e il nero, e custodisce un prezioso Franciacorta Brut, un vino versatile e avvolgente. Franciacorta Rosso Nero è anche il regalo perfetto per i tuoi amici milanisti. Cosa aspetti? Acquista subito su www.lamontina.com.com e con il codice Lamontina Radio Rosso Nera tutto attaccato avrai diritto al 10% di sconto. E poi c'è un gol incredibile! Il gol dei ragazzi! E il gol dei ragazzi! Rete! 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 Ben ritrovati, ben ritrovati a tutti, sono Mestrice 02 Radio Rosso Nera Talk, è il 17 di novembre del mercoledì, ultimo giorno di pausa nazionale perché da domani non se ne parlerà più fino a gennaio, quando ripartirà Coppa d'Africa e data di partite FIFA, ma non ne parleremo più di nazionali, sarà un lungo rush finale di 2021 fino all'ultima giornata di questo appunto anno solare dove il Milan andrà ad Empoli, nel mentre ripartirà proprio dalla Toscana con Fiorentina Milan, sabato sera ore 20.45, parleremo di questo e di quant'altro con Enrico Boiani, ciao Enri, buon pomeriggio a tutti, con Emanuele Frigerio, ciao Ema, ciao a tutti e con Stefano Borghi che invece verrà a trovarci in collegamento all'incirca la metà della trasmissione, oggi insomma dopo ne parliamo di invece di quello che insomma ci mura la visuale, cioè la montina, che tra l'altro a me piace tantissimo questa visuale, perché praticamente sembra, se voi guardate il video sembra che il mio microfono sia un prolungamento, l'ho visto, l'ho visto prima durante il lancio, stai parlando in una bottiglia, si, non è la prima volta, non è la prima volta, la prima volta è la prima volta, ho concluso parlando con il fondo della bottiglia, si, che poi si può anche fare, sembrava una città di una canzone, è vero, quante volte abbiamo cantato Pop e the Sailor Man facendo il fu fu alla fine soffiando dentro la bottiglia, fantastico, non hai capito Enri? Ho capito ma, ti schianda nel collo, si ho capito, va bene, ma andiamo avanti, facciamo qui, arriva una foto da Giacomo D'Amato, ciao Jack, che ci manda la citazione che tra poco dovremo assolutamente fare, grazie mille Jack. Allora ragazzi, siamo ormai in dirittura d'arrivo, come detto le nazionali sono finite, hanno finito anche di giocare anche Frank Cassi e Isma Benasser, che ieri è uscito per crampi, Isma, ma perché si è speso alla morte per giocare? Ma perché per dei crampi soprattutto è uscito, non so, qualcuno ha detto che è uscito in barella. è uscito a cinque minuti dalla fine circa. Uno. Un minuto dalla fine. È l'89. Enri abbassa il microfono, perché? Perché stai urlando, è veramente un gran vocione Enri. Eh lo so. No, credo che sia l'altezza. Se volete faccio anche la voce da doppiatore di Auto Nuove. Sembrava altro, ma non lo dico in onda. No, quelle belle voci da SUV in mezzo all'Alaska che passa e dice provala con un finanziamento a soli 18.900 euro. Vabbè, andiamo avanti con ste minchiate. Detto ciò, direttore. Niente. Ah no, il volume ti dicono di abbassare. Quindi era proprio il tuo boccione. E allora è il mio boccione. Fa salda la regia, ha detto, quindi grazie mille Sal. A proposito di Sal, se volete andarla a disturbare, il numero è già in sovrimpressione. Allora 024942 8479. Telefonate, fate due chiacchiere prima con Sal, che tanto è sempre carino e cortese. Soprattutto, esattamente, come ci ricorda dalla regia. E quindi se volete fare due chiacchiere prima con Sal, giusto un entrè, prima di venire in onda con noi, poi venite e ci fate una domanda, una considerazione, insomma, quello che volete. Rispetto a, non dico la pausa nazionale, perché ormai ci ha rotto le palle di Zebedei, si diceva una volta, per essere edulcorati. Per quattro mesi non c'è più la pausa nazionale. Per l'Italia, sì. Per le altre, no. L'Italia aveva già fatto un po' la pausa nazionale. Sì, è da fine luglio che è in pausa nazionale. Va bene. Andiamo avanti. Allora, novità da Milanello, così ci avviciniamo alla gara. Tutto in gruppo per Messias da quando si è ripartiti da questo inizio settimana? Gaza. Cosa? Luglio e il fatto che è in gruppo? Il fatto che è in gruppo. Arriverà il terzo giorno in gruppo? Sì. Perché il terzo giorno, ricordiamolo. Ma perché? Ma vogliamo fare un report serio, adatto, giusto, preciso? Assolutamente sì. Va bene, comunque. Messias è in gruppo. Romagnoli ieri no. Personalizzato per Romagnoli. Sì, quindi si va verso Tomori Chier, a meno che un Romagnoli dell'ultimo momento si aggreghi. Un Romagnoli abbia dannata? Poco probabile. Dannata? Poco probabile. Sì. Molto outsider, diciamo. Sì. D'altro non è andato in Under21, ho scoperto ieri sera. Va bene. C'era un motivo particolare? Non lo so. Forse perché non gioca mai, poveraccio. Eh, magari è passato fuori quota, in realtà. Quindi si andrà con Chier Tomori. Il punto di domanda nel caso sarà sull'esterno, ma lo risolviamo dopo perché c'è una telefonata, quindi andiamo a rispondere. Pronto? Sì, salve, salve a tutti. Ciao, buongiorno. Volevo intervenire un attimo sul nostro ex portierone del Paris Saint Germain. Sì. Esattamente questo. Volevo dire, ma quando sento parlare, dire che lui possa andare all'Aventus, possa andare all'Inter, eccetera, non si tiene conto di un aspetto molto importante, che se è vero che è nato via dal Milan ha un parametro zero, è anche vero che ha un contratto di cinque anni col Paris Saint Germain. E non credo che Paris Saint Germain lo abbia zero. Lo valuterà 50, 60, 70 milioni. Quindi, come può una società come la Juventus, l'Inter o chi per essa acquistare un portiere a queste cifre con l'ingaggio oppure che ci porterà dietro. Grazie, vi ascolto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Beh, la Juve prende i centrocampisti e li paga dopo. Da me è andato, salve. Porca miseria. Che tuffo, salve. Sembra Vigigio. A proposito. Mi risorcio. E ricordo che la Juventus compra i giocatori, li paga dopo due anni, 24 comoderate, gli danno pure la batteria di pentole. L'Inter compra i giocatori, ma non li compra proprio. No, l'Inter fa arrivare ai giocatori, ma deve dare più della metà della cifra al Manchester United. Come si fa? Così. Qual è la risposta? Quella. In realtà è addirittura più complesso rispetto a una transazione italiana, perché transazioni italiane con la camera di compensazione che c'è all'interno dell'Italia, in realtà poi alla fine vai sempre a finire a non dare i soldi, perché alla fine poi c'è un meccanismo di debito credito che viene compensato, ma questo è un discorso diverso. Con l'estero ti tocca veramente pagare i giocatori, quindi in realtà è molto difficile, come ha detto anche l'ascoltatore, al momento un'operazione del genere, a meno che non facciano un cambio merce e gli diano dentro un rabbio dannata. Un rabbio, tra l'altro, che se torna indietro presso che i tifosi del Paris Saint Germain li tirano qualcosa, magari un McKennie dannata. Pensavo li tirano dietro un McKennie dannata. Beh, ma rabbio non vuole tornare a casa? Vabbè, chi se ne frega? Cavallo pazzo rabbioso. Io credo che nel caso facciano un semplicissimo prestito e poi vedano. Sì, in qualche modo resta lì. Abbiamo la seconda telefonata, nel mentre ci scrivono da casa lo pagherà direttamente il Sassuolo. Ma tra due anni. Sì, il Mangigio. Sì, sì, sì. Il Paris Saint Germain, poi lo giro la Juventus. Sì. Pronto, c'è una telefonata in linea. Andiamo subito. Pronto? Pronto, mi senti? Sì, ciao. Eh, ciao, sono Flavio, chiamo dall'Albania, Tirana. Ciao, ciao. Mi sento sempre quando esco dal lavoro è proprio l'orario giusto per sentire voi. Grande, bravissimo. Diciamo, nell'auto, appena sto guidando adesso. Eh, grande, dici tu. Allora, volevo chiedere, ma se compriamo Renato Sanchez, come si parla, e lasciamo che sia in tribuna, non vi piace? Che la pensate? Questa è una bellissima domanda, ti rispondiamo in diretta. Grazie mille. E poi un'altra suggestione. Ho visto il nuovo attaccante della Svizzera, Okafor. Vedete che è molto forte come attaccante, giovane, classe 99. Sì, molto giovane. Grazie mille, ti rispondiamo in diretta entrambe. Ciao. Ciao, 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 ciao. Vabbè, dividetevele. Vai, Ari. Tu, Okafor, giusto? Eh, ma a me piaceva parlare anche di Okafor. Porca miseria. Allora, facciamo una cosa. Tanto io non conosco i suoi due giocatori, vai. Tanto io non conosco i suoi due giocatori. No, Okafor è un prospetto molto interessante, ma a me di quella squadra lì piace più il suo compare. Credo sia la stessa squadra, si chiamano uguale, credo sia sempre Salisburgo entrambe, che è Adeyemi. Il buon tedesco Adeyemi. Io preferisco Adeyemi. Okafor è interessantissimo. Ma tra i due, se devo prenderne uno come attaccante giovane, prendo Adeyemi. Forse costa anche un filo in meno. Su Renato Sanchez, sì. Cioè, per me Renato Sanchez è da prendere punto. Viste le condizioni dell'Ill, visto il fatto che 18 mesi va in scadenza, visto il fatto che lui vuole andare via, visto il tipo di giocatore che è, vista la situazione che hai con Chessy, poi naturalmente facciamo sempre, abbiamo fatto anche in questi giorni, 1780 discorsi relativi a eh, ma il Milan quei soldi non li spende, ma il Milan dovrà spendere per la punta, ma il Milan non ha mai speso quella cifra per un giocatore affermato, ma più per i prospetti, eccetera, eccetera. Quindi... Non lo so. Non so se accadrà, perlomeno. Me lo auguro. Cioè, Renato Sanchez per me è veramente forte. Non è perfetto, forse, per sostituire Chessy. Avrebbe forse più senso Camarà. Guardavo prima un po' di evoluzione anche tattica di Camarà nel corso delle stagioni e forse ha più senso lui, oltre al fatto che ha zero Camarà. Però a me Renato piace proprio tanto, proprio tanto. Quindi la testa, dice Camarà, per questioni economiche, di ruolo, di caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Il cuore di Cerenato. Se non ricordo male, Elliot, c'entra qualcosa con l'IL o sbaglio? Ci scrive uno da casa. È suo. C'era. Non è proprio così. Sì, esatto. Però... C'entra, ma non è giusto. C'è di mezzo, ma non così, come si dice. Non è proprietario. Non è con Milano. Esatto. Non è così invasivo, ecco. E in un certo modo... Mi scrive uno sveglia dai. Sì, in effetti ho abbastanza sonno. C'hai l'abbiocco? No, semplicemente stavo leggendo. Vuoi svegliarti un pochino? Vuoi tirarti un po' su? Col vino? Cosa mi tiro su col vino? Dormo peggio? Ma no. Oddio. Dipende. Nel senso, quanto ne bevi, come ne bevi e cosa fai dopo che lo bevi. O durante. O mentre lo bevi. No, comunque no. Ricordiamo che il direttore è a Stemio. Non sono a Stemio. Dai lì questa... Ti querelo. A proposito. Ehm... No, no, no. Non bevo... Ma ogni volta mi fai arrivare a questa cosa che non posso dire. Eh, perché c'è lo sponsor. E poi mi dico che non posso arrivare fino a lì. Mi ci porti sempre però, ma non posso farlo. Allora, va bene. Torniamo a noi. Torniamo agli esterni allora a questo punto. Altro Calabria è grande appassionato di Franciagosta. Ma non ci sarà. Però... No. Piccola parentesi. Non c'è stato ancora il comunicato stampa del Milan. Eh, se c'hai fretta. Fra due mesi arriva. Però in teoria... Ex post. In teoria andava fatto come è sempre stato fatto quando c'erano infortuni. Andavano fatte tante cose. Ma non quest'anno. Quest'anno non comunichiamo l'infortunio. No, lo comunicano in teoria. Ma al di là di questo non è ancora stata data una linea para ufficiale. Sì. Officiale o quello che volete. Di che grado è questo stiramento? Non lo sappiamo. E... Cosa fondamentale? In teoria è stirato. Voci... Da... Autore. Da vicino dicono che sia stirato. Non così, Henry. Stirato... Ma non è che bisogna sempre commentare ogni gesto che faccio. Eh, ma fai così in onda. Ma chi ci vede almeno si diverte. Dice guarda, sta mimando. Però non è che ci dobbiamo fermare ogni volta. Gioca quindi colui che ha segnato ieri. Un gol. Con l'Under 21. La sponda è lo difensore centrale della Macedonia che l'ho messo praticamente a porta. Giocherà con probabilità quindi Pierre Caloulou che come avete ricordato ha fatto un grandissimo gol contro la Macedonia. No, scherzi a parte. Arriva tutto in rete. Un tap in da molto vicino. Un inserimento però ben fatto. Eh... Da Pierre. A sinistra andrà Teo con ogni probabilità. Perché anche qui punti domanda. Ballo Touré. Contusione. Non si sa cosa sia successo. Non è come se entrassero su Pandora i giocatori quando vanno in nazionale. Sì. Di avatar. Che non vedi le coordinate. Non vedi niente. Almeno su Pandora hai un link comunque. Sì esatto. Lì spariscono tutte le informazioni sui giocatori e quindi quando rientrano poi lo scopriamo. In mezzo al campo? Chiertomori. Chiertomori. In mezzo al campo Chiertomori. Ah parlavamo della difesa. Stavamo parlando della difesa. Stavamo parlando della difesa. No no. Stavamo parlando della difesa. Eh beh quello l'abbiamo già detto. Chiertomori. Quindi Chiertomori. Caloluteo. Clinched. Come si dice. Davanti a loro. Playoff. Tonali. Benesser che sì. Paga Yugo. La mia domanda è. Giocherà una partita titolare da qui a fine stagione? Sì. Cioè da qui a fine anno? A gennaio? A gennaio sì. Sarà una bella scorpacciata di Bacaio. Voi vi aspettate che nella prossima settimana ma anche due settimane dato tutto questo tour de force possa giocare una partita a Bacaio con titolare? Perché io ad esempio Benesser uscito abbastanza mal concio ieri non me lo aspetto titolare con la Fiorentina. Come poi sempre quando rientra la nazionale. Per me giocano Benesser e Tonali contro la Fiorentina. Secondo te recupera? Sta bene dal punto da giocare? Sì. Sei uscito solo per Crampi. L'ha giocato ieri? Ieri. Sei giorni? Cinque giorni. Sicuramente Mian non cederà se sono Crampi o meno. No. Però se sono Crampi... Però lo capiamo credo dai prossimi allenamenti. Sì. Ma vista anche il centrocampo della Fiorentina, che non sono dei giganti, ci può stare. Sì. Tra l'altro difensore centrale della Fiorentina è un bel enigma. Probabilmente potrebbero abbassare Amrabat. Pulgar. Pulgar. Io ho letto di Pulgar. Io ho letto sia Amrabat di Pulgar ma anche di un adattamento di Venuti che a me è sempre improbabile però. Sì. Per me o giocano Pulgar o Venuti? Non Amrabat. Amrabat per caratteristiche non sarebbero adesso. Però anche Pulgar volendo. Per me è più probabile Pulgar. Beh un Torreira indietro dal mezzo difesa potrebbe far godicchiare Giroud. Sicuramente le caratteristiche fisiche per contenere Giroud. Beh sicuramente. Amrabat. Non è che sia un gigante da un enigma. Però è un po' meglio di Pulgar ed è molto meglio di Torreira fisicamente parlando. Voi vi aspettate che Torreira giochi titolare Colmina? Beh se gioca Pulgar davanti alla difesa, in difesa è molto probabile che giochi titolare. Sì. Potrebbe starci. Non lo so. Per me l'italiano si affiderà ai grandi ex della sfida. Tutti e due. Allora domani portiamo in onda un Corriere di Amazon. Un giornalista del Corriere Fiorentino e ce lo facciamo dire dire da lui cosa sono. Con l'italiano già dai tempi dello Spezia è sempre molto difficile andare a trovare la formazione giusta. Perché lui cambia molto. Cambia tante. Poi ci sono tante incogni. Per me giocano o Amrabato, Torreira e Buonaventura Saponato. Jack è forse una delle poche certezze insieme a Vlaovic che ci sono sempre. Tra l'altro quest'anno molto presente nella Fiorentina dell'italiano. Chi? Jack o Saponato? Jack Jack. Quando una squadra gioca a calcio Jack gioca. Quasi sempre. Quando devi far giocare una squadra a calcio Jack gioca. Io ho paura di quell'altro che sembra aver trovato serenità e sta giocando veramente con una tranquillità e una maturità. Sapo? Sì. Che quest'anno rispetto ad altri giocatori perché fai quella faccia? Guarda che è vero. Ma lui è un bel giocatore. Gli ha portato sei punti puliti alla Fiorentina. Quando entra gioca tranquillo. Per me è proprio un altro giocatore rispetto a quello dello Spezia. A me preoccupa tanto Nico Contrares. Contando che contro di noi con lo Spezia fai c'è una partita... Ma secondo me è molto sottovalutato in questa stagione Saponato. Riccardo è sottovalutato proprio in generale. Perché la sua carriera l'ha portato ad essere così. Nel senso è sempre stato infortunato spesso. Non ha mai trovato continuità fisica. Ma sai che è a posto di Krunic? Non si tocca a Krunic. A Krunic non si tocca. Ma cosa c'è? Sono cose diverse. Beh in realtà... Ma no! Ma Henry, ma dai! Sto scherzando! Su! No, no, lascialo lì. Sto scherzando. Ti farà gol dopo questo che abbiamo detto. Ti assumi tu tutte le responsabilità. Assolutamente sì. Guardatevi Milan-Sandore in cui fece gol e esultò come se fosse gol in fine di Champions. Un buon vecchio Riccardo. E poi perse. E poi chiese scusa dopo aver risultato. Questa è una cosa fantastica. Ma andiamo avanti. Torniamo alla formazione rossonera. Io ho più paura di quello che c'è davanti. Benassertonali? Ne parleremo. Io vado di Benassertonali. Io mi prendo Benassertonali. Braimino Diaz. Che è andato in nazionale ha visto come era l'ambiente. Sì. Anche perché nel titolo lo abbiamo scritto. Diciamo che i quattro davanti era di grandi ballottaggi. Finalmente. Ne abbiamo otto. No scusa. Nove. Nove. Perché c'è pure Pellegri. Di che cosa? Eh di giocatori per i quattro posti. In realtà dieci. In realtà addirittura dieci se ci butti dentro pure Florenzi. Ma per tutti quelli davanti. Sì. Quattro davanti. A destra i Salemakers. Messias. Vabbè non puoi mettere insieme. A destra i Salemakers. Messias. E buttiamoci dentro pure Florenzi. Sì. Che magari però farà il vice Calulù per questa gara. Beh può essere sì. Al centro è Brahim e Krunic. A sinistra è Rebic Leao. Davanti è Ibra Giroud e pure Pellegri. E Maldini. Undici. Giusto. Già. Quindi fai te. Vai. Ampia scelta. Ma tanto giocheranno. Salma Kerr. Diaz. Brahim Diaz. E Rebic. Con i probabilità anti Rebic. Anche perché ho visto dalle storie di Raffaele Leao che soltanto ieri ha preso l'aereo di ritorno. Sì per me Leao se la fa proprio in ciabatta. Giroud avanti? Per me gioca Ibra. E lui contro l'Atletico così giusto per risuscitarli. Ibra già ieri era lì che faceva la sua bella partitella in gruppo con con i compagni. Stava già allenando ed era martedì. E' stato in otto. L'altro ieri ho visto da quello che si intuiva. Un MM6. Sì. Sì. A fare da quello che si capiva la sponda esterna in un possesso a colori. Leao alle trecine nuove. Formalmente dato che a mano fuori uso se vuole giocare l'antidifesa. E' ma c'aveva ancora il tutor. No c'è ancora il tutorino rosso. Quello leggero. Sì. Lì non prende contatti però si sta già allenando diciamo così all'aria aperta. Ma guarda che anche dopo due settimane che si era operato faceva gli scuoto. Qualcosa faceva. Quello obiettivamente lo può fare. Esatto. Ma quindi un paio di settimane poi comincia a fare un po' di test in campo secondo voi? Io lo terrei buono e comodo per il 2022. No no ma io dico per essere pronto il 2022 dato che i tempi che copro comunque ha 10 settimane. Vi aspettate che un paio di settimane ricomincia un po' a fare qualcosa? Io per metà di dicembre inizio a intravederlo. Il Milan Napoli che giorno è? Il 20 credo. Il 19 o il 20. Credo il 19. Io non forzerei. Il 19. No ma non è forzare. In realtà i conti che aveva fatto Ema lo porterebbero in cerca lì. Se mi assicurano che è tutto ok va bene. Credo che la decima settimana di Degenza fosse il 15 dicembre o qualcosa del genere. Se mi assicurano che sia tutto ok va bene. Io semmai che anche solo al 70% non lo rischio. Non voglio più vedere dal 2021 in poi una partita senza Magnano. Tra l'altro non so se è vero. Io da ora in poi Teo lo dico. Sono disposto a pagare di tasca mia le spese per mantenere la salute intatta fino a fine anno. Terzino sinistro è Milan mai più senza Teo. Fino a fine anno. Poi faccio le loro valutazioni sul mercato per un secondo. Vedi nel comunicato c'erano 10 settimane scadono per Milan Napoli. E c'è qualche vocetta che dice che potrebbe anche bruciare qualche giorno. Non settimane. Giorni. Quindi arrivarci per Milan Napoli. Non scadere a Milan Napoli. Arrivarci per Milan Napoli. Se mi dicono che ha recuperato perfettamente ed è al 100% ed è come nuovo va bene. Se è al 70% non lo forzo. Soprattutto in una partita come Milan Napoli che rischia di essere ad altissima intensità. Anche perché poi a gennaio abbiamo un discreto mese. Vero. Vero. Assolutamente vero. Ma scusate. Tornando alla formazione. Ci scrivono che Magnano era in live ieri sera sul Twitter. Ancora. Magnano. Era un sos. Su Twitter. A far cosa. In diretta. Vabbè tanto su Twitter ieri sera non si è vista la live di Magnano. Non so come dirvelo. Ma fortunatamente non ho partecipato alla cosa che è successa. Male. Ma è veramente. Sì. Il centrocampista della Fiorentina. Male. Ehm. Anche se si pronuncia male. Sì. Ma è meglio così. Anche io me la sono persa. Dicevo. Ma. Le. Con questa difesa viola leggerina. Mh. Che deve adattare o Pulgaro o Amrabato o Venuti. Insieme a Anastasi. Insieme a. A Igor. Perché mancano anche Anastasi eccetera. No. Dove stanno andando a parare. Pazza idea. Ma non rivediamo Ante la davanti. La davanti. Ma scusa. C'hai Giru e Ibra. Eh. Però a me il Rebice le ha insieme quest'anno gasavano. Sì. Eh ma sono più da grande partita secondo me. Ma poi glielo vai dire tu. A Ibra e a Giru che si siedono entrambi. Infatti non accadrà. Eh. Ma io piuttosto mi essere aspettato allora. Li metto tutti e tre. Con Rafa tre quarti. Io pensavo stessi andando lì a parare. Rafa tre quarti. Cioè Rafa da una parte. Niente dall'altra non mi piace per niente. Rafa tre quarti. Rebice a sinistra. E Ibra davanti. E Giru terzino. Per me se fai il tuo. Visto che già sono in difficoltà. Fai il tuo. Rebice. E poi se hai difficoltà dietro. Attenzione. Perché davanti è una squadra che crea. È un punto di far giocare Leao. Esattamente. No però. Leao è meglio che si riposi. Però a me l'idea della doppia punta. Insomma dell'ante Rebice punta. Quest'anno non mi dispiace per niente. Domanda. Siete così sicuri che giochi Zlatan dopo che. Nella gestione che vediamo che è molto scientifica fra i due. Giru è rimasto seduto 90 minuti nel derby. Questioni anche magari. Sì. Psicologiche. Scogliatoio. Zlatan che non è ancora partito una volta titolare in Champions. Partita decisiva. Magari Zlatan gioca quella. Gioca Giru. Invertono quello che è stato un po' il trend della prima parte. Cioè Ibra giocava la domenica. Il mercoledì giocava Olivier. Guarda in una partita come Fiorentina Milan è più indicato Ibra o Giru. E per Atletico Milan è più indicato Ibra o Giru. Per me vanno lì a fare un discorso proprio facile. Se vuoi andare in un gioco la formazione migliore. Se vai ad Ammarcord l'anno scorso ho fatto un gol discreto al Wanda metropolitano Olivier Giru. Il Premoic contro la Fiorentina fa storicamente benissimo. Però secondo me. Allora Pioli sa che dove casca 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 bene. Nel senso che comunque. Per una volta tanto. Che abbiamo un po' di scelta. Che non caschino i giocatori. Di livello assoluto. Così come a sinistra dove parliamo di giocatori di livello assoluto. Al momento è meglio per l'allenatore avere quei dubbi qua. Il mio ragionamento è sempre un po' provocatore. Nel senso. Non si sa mai fino alla fine concretamente chi dei due poi gioca titolare. Al momento ipotizziamo cose diverse. Perché giustamente ci sono due giocatori che stanno bene fisicamente. Per me giocherà Ibra. Ed è un bene secondo me. Per me giocherà Ibra. Io ovviamente come al solito sbaglierò al Fanta Caccia. Poi ne vediamo due di fila di Giru piuttosto. Contro Sassuolo magari Ibra. Contro Sassuolo e Genova. E poi Salernitana e Ibra per fare il record. Ibra non è mai semplicissimo da mettere fuori. E se sta bene. Però appunto. Però sta facendo questa alternanza scientifica 1 1 1 1 1 1 1. Per me fa 1 2. Ibra ha fatto la prima ma la seconda ha fatto un quarto d'ora scarso. No perché il mio ragionamento nasce sul fatto che tipicamente Pioli tra giocatore che ha avuto due impegni con la nazionale. Il giocatore che è stato 15 giorni a Milano all'allenarsi sceglie il giocatore 15 giorni. Un po' un ragionamento di questo tipo. Tant'è vero però che questa volta è una situazione diversa perché tutti i giocatori quasi hanno finito lunedì o martedì. Quindi è diverso. Vediamo. Va bene. Questa era più o meno la formazione del Milan che affronterà la Fiorentina. Come detto qualche alternativa di buon livello c'è. Finalmente il gruppo si è un pochino più rimpolpato rispetto a come era all'inizio della scorsa sosta. Quando tra Covid e quant'altro la scorsa sosta nazionale si sono caduti come Mosca. A un certo punto ce n'era uno al giorno quasi. Fortunatamente ci siamo limitati solo e soltanto con Davide Calabria. Forse Balloturè anche se comunque oggi era in gruppo in parte ha fatto in gruppo. Quindi più o meno si dovrebbe essere avile e rolabile per la partita di sabato. Ma abbiamo l'ospite in linea quindi lo andiamo a salutare Stefano Borghi. Ben ritrovato su Radio Rosso Nera. Ciao. Ciao. Ben ritrovato. Un piacere. Stefano allora la prima domanda che ti faccio è proprio sul Fiorentina Milan. La Fiorentina ha qualche piccolo problema di formazione soprattutto sui centrali dietro. Il Milan invece ha ritrovato gran parte della rosa come forse mai da un mese a questa parte. Non è una partita già scritta come forse la carta inizia a delineare ma secondo te che partita sarà? No non è assolutamente una partita scritta anzi è una partita importante. E poi dopo le soste per le nazionali non c'è mai niente di sicuro. È una partita un bel test per il Milan perché la Fiorentina quest'anno ha dato già delle dimostrazioni molto chiare. È un progetto nuovo è un progetto che deve essere visto diciamo sul quanto meno sul medio periodo sempre con l'incognita Vlaovic. Però è una squadra che ha cambiato completamente passo rispetto a quella degli ultimi due anni. Non ha mai figurato negli scontri con le big. Non ha fatto punti però ha sempre dato battaglia. Roma, Napoli, Inter e anche l'ultima Juventus. Sì è una Fiorentina che ha una difesa ridotta all'osso. Però io credo che sarà una partita su ritmi significativi. E questo imporrà al Milan di fare una prestazione piena. Magari di ritrovarsi anche in quello che è stato il suo habitat naturale di questa via di stagione. Ovvero partite intense a ritmi alti. Vediamo come risponde alla pausa per le nazionali. Però mi verrebbe da dire quasi il solito weekend, il solito sabato sera in questo caso del Milan. Ovvero necessità di dover dimostrare dopo aver dimostrato praticamente tutto. Prima di tornare al calcio giocato ti voglio fare un paio di domande su qualcuno che forse arriverà l'anno prossimo. C'è un nome che è stato associato al Milan ma anche alla Fiorentina stessa quindi si collega bene alla partita di sabato. Cioè Julian Alvarez. E l'altra domanda che ti voglio fare è su un giocatore che è già del Milan ma che sta giocando al Bordeaux ovvero Adli. Come li vedi questi due ragazzi? Uno è del Milan già e ti chiedo dove lo vedi ad esempio l'anno prossimo nel Milan di Piove. Allora Adli è un giocatore di classe. Adli è un giocatore di visione, è un giocatore con anche una fisicità particolare. Io credo che sia un gran bel prospetto su cui sono state messe le mani nel modo migliore possibile. Dove lo vedo? Adli ha avuto grande evoluzione, è un giocatore anche interpretabile. Forse il suo ruolo più naturale è quello di mezzala di sinistra. Però può fare l'esterno. Ma se mi chiedi dove vedo Adli in questo Milan, nel Milan di Pioli, nell'evoluzione che può avere e soprattutto nella linea di sviluppo di questa squadra, io lo vedo nei due mezzi al campo. È una scommessa coraggiosa perché si andrebbe a costruire una squadra sempre più spiccatamente offensiva e spavalda. Però se si impianta in questo calcio un giocatore del genere in quella posizione, c'è un ulteriore scatto in avanti, c'è un ulteriore alzare la sticella tecnica. Per cui mi intriga molto l'idea di vedere un giocatore come Adli nei due di centrocampo di questo Milan. Julian Alvarez per me è un prospetto enorme. In Sud America a volte c'è il rischio dell'innamoramento facile. Io lo conosco molto bene. Però ci sono anche delle situazioni in cui vedi uno e dici, vabbè, qua è impossibile sbagliarsi. E secondo me Alvarez è una di queste situazioni. È un ragazzo molto giovane ma che ha già un percorso significativo. Io ricordo il suo debutto in Libertadores. Era nella famosissima finale Boca River del Bernabeu, quindi dicembre 2018. È un ragazzo che quest'anno è esploso, capocannoniero del campionato argentino. È un attaccante estremamente moderno perché ha il fiuto del goleador ma ha la completezza dell'attaccante dei giorni d'oggi. Può fare il 9 anche se non è una prima punta classica. Può fare la seconda punta. E lui è cresciuto abbeverandosi alla fonte del miglior allenatore che ci sia in Sud America adesso, ovvero Gassardo. Ma anche con le nazionali giovanili argentine giocando da attaccante di destra. Tutte le sue prime apparizioni a livello senior sono state da attaccante di destra. Quindi è uno che ha idea di tutto quello che succede sul fronte offensivo. Ha personalità, colpi, segni in tutti i modi. Per me è uno sul quale investire non si sbaglia. Quindi, forse nel Milan investiresti, ma ti faccio anche la stessa domanda. Ma riferita al campo, cioè il Milan migliore di quest'anno in parte si è visto con Ante Rebic punta. che è una punta tipica. Magari in parte ricorda anche quello che è Julian Alvarez. Non tanto per le caratteristiche tecniche. In generale è una punta di movimento. Pensi che il Milan debba andare in quella posizione di campo verso quella direzione piuttosto che andare a prendere, vista l'età ormai avanzata di Ibra e Giroud, una punta vera e propria? Una punta serve, una punta serve sempre. Poi, quella che è l'evoluzione del calcio e l'evoluzione di vari calciatori può portare a tanti ragionamenti, tipo Leao. Leao è forse il più grande potenziale che ha il Milan, anzi, Leao forse. E' esploso giustamente da attaccante esterno, però io continuo a vedere gli crismi dell'attaccante. E' un giocatore che deve ancora completarsi, deve ancora scoprire forse qual è la sua dimensione, perché per me parliamo veramente di un prospetto gigantesco. Però io vedo Leao come attaccante, poi attaccante che parte dall'esterno, attaccante che orbita sotto una prima punta, attaccante che diventerà numero 9, questo lo vedremo. Rebic per me non è una prima punta, è un esterno attacco di sinistra, è vero che ha fatto cose ottime in questa posizione. Ma perché entrambi erano inseriti in un sistema di squadra che li ha valorizzati. Secondo me l'assenza di Rebic nelle ultime settimane è stata fin sottovalutata, perché il sistema di squadra permette, quando stai bene, facendo cose bellissime, quando sei un po' sotto il 100% della condizione, comunque arrivando a fare il risultato, di valorizzare tutti. Poi se Milan però in ottica futura, visto che ci sono Ibrahimovic e Giroud, dovesse mettere le mani su un bel prospetto, numero 9 vero non sarebbe male, ma Julian Alvarez è un attaccante vero, è un attaccante vero, può farlo quel ruolo con caratteristiche moderne, ma con i crismi del numero 9. Ti faccio un'ultimissima domanda, visto che ne avevo promesso di lasciarti andare velocemente. Ti chiedo un po' la cosa scudetto, ovviamente legata alle tre squadre di vertice. Pensi che siano soltanto loro e nel caso, secondo te, chi si potrebbe inserire? Io credo che la classifica adesso sia sincera, nel senso che la classifica esprime perfettamente quello che abbiamo visto fin qui. Milan e Napoli non solo con un passo diverso da tutte le altre, ma con un passo clamoroso, perché questi risultati in questo campionato, in una stagione con tutte le dinamiche che stiamo vivendo, sono risultati pazzeschi. L'Inter staccata, ma l'unica che li vede ancora, e poi via via. Io credo che la classifica sia molto sincera, però attenzione, la classifica dice la verità sulle prime 12 giornate di campionato. Ce ne sono ancora 26, quindi siamo a un terzo del percorso. Io ho l'impressione che sarà un campionato che ripartirà adesso da questa griglia di potenza molto definita, e di stacchi sono forti, ma sono di stacchi secondo me che qualche anno fa sarebbero stati molto più pesanti. Quest'anno stanno saltando tutte le statistiche, tutti i riferimenti. Io credo che ci saranno varie fasi, penso che assisteremo ad altri ribaltoni, ad altre sorprese che sarà un campionato così. Certo, quello che hanno detto fin qui, Milan e Napoli non è una meteora, non è un fuoco di paglia, è qualcosa di estremamente eloquente. Sono le due squadre più forti, e sono le due squadre in fiducia più forti sul campo. Vedremo, sono due squadre che devono ancora perdere in campionato. Una sconfitta prima o poi probabilmente arriverà, e la reazione alla sconfitta farà delle differenze secondo me. Ma è un campionato tutto da godere, con le sue particolarità, con anche le sue polemiche, ma campionato così divertente non si vedeva da un po' di tempo secondo me. Stefano, ce lo racconterai ovviamente durante il resto della stagione, ci sentiamo, a presto, grazie mille per essere stato con noi. A presto, grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao Stefano, Stefano Borghi di Dazon, ha cambiato 26 cose e l'ultima è appunto Dazon. Esattamente così. A proposito di Dazon, è stato confermato il fatto, ho visto poco fa, sto guardando in questo momento, anzi, un'ansa che conferma il non cambio che era stato ventilato all'inizio di questa sosta. Anche perché non era fattibile. Eh già, il fatto di perdere il doppio dispositivo da parte di chi era abbonato con Dazon, è saltato l'idea di Dazon originaria. Abbiamo in linea il prossimo tifoso, pronto? Pronto? Eccoci qua, ciao. Salve, io sono Giovanni da Firenze. Ciao. Proprio tu, oggi. Sì, sei nella città giusta. Veniamo a trovarti sabato. Eh sì, io sono tra l'altro proprio vicino allo stadio. Ah no. Quando si segna un gol io lo sento prima del... Prima della TV. Prima della radio. Lo sento prima. Io speriamo che segni il Milan. Cioè, e chiudi le finestre. Puntra! Ok. Ecco, io vorrei... Cioè, non vi tolgo molto tempo. Sì. Una domanda, una considerazione. La domanda è come mai il Milan non protesta mai contro gli arbitri? E tra l'altro Cesare, io l'ho visto l'altro giorno, ha detto delle cose per me, cioè, un po', non vedo delle strane, ma un po' fuori dal mondo. Gli ha dato come voto 8, 7, 8, addirittura 9 e ha fischiato per 10 minuti contro di noi il primo rigore inesistente. Questa è la domanda. Perché non protestano? Stai parlando del derby, giusto? Sì. La considerazione è che, secondo me, noi a Madrid dobbiamo andare per vincere, perché io voglio vincere la Champions League. Io sono... Dai tempi... Il Milan ce l'ha nel DNA. Vabbè, questa è una frase che viene ripetuta più volte, migliati di volte. Però è così. Cioè, dagli anni cinquanta ad oggi, noi siamo, insieme al Madrid, la squadra più regali. Certo. Io voglio andare a vincere. Poi, se perdiamo, va bene. Va bene, ci sta, è tutto. Vabbè, però dobbiamo giocare per vincere. Abbiamo grandi calciatori. E quindi giochiamo per vincere. Va bene. Grazie mille. Ciao. Buona giornata. Salve. Grazie per la telefonata. Niente, me l'ha troncato al volo. Saluteci il Franchi, volevo dirlo, ma non glielo ho detto. Saluteci il Franchi. Saluteci il Franchi. Saluteci il Franchi. Va bene. No, Franco non gioco più al Franchi. No, Franco è a Salerno. Esatto. Non so. Ah, ok. Va bene. Per quanto riguarda la questione arbitrale, ci siamo già espressi più volte, facendoci diciamo così, da portavoce in partica di quello che è l'idea del Milan. Non li vedrete mai andare a protestare in pubblico. Non li avete visti infatti mai andare a protestare in pubblico. Nel caso, come si suol dire, lo fanno nelle sedi opportune. Nelle sedi opportune. Ma non ci lamentiamo sicuramente di episodi arbitrali a due minuti dalla fine della gara davanti a una telecamera. Un po' lo stile Milan è sempre stato così. Quasi ridacchi. No, no, no. Rido per Giovanni. Sì, Giovanni. Per i Bubà, che tra l'altro questa mattina si è sfidato a colpi di bit con il nostro amico Gioele sulla piattaforma viola, che scrive, grazie Giovanni, che è l'ascoltatore che ha appena chiamato dicendo di voler vincere la Champions League. Aggiunge, pure io vorrei andare a cena con Miriam Leone. Non male che l'ha detto lui perché lo stavo per dire io. Ma chi infatti non vorrebbe vincere la Champions League? Era un po' rocco come si hanno tra l'altro l'ascoltatore. Allora, rispondiamo velocemente alla seconda questione che era riferita alla Champions League. Lo so. Ma che a Madrid bisogna andare là per vincere ci può stare. Perché siamo ancora a zero vittorie in questa Champions? Sono otto anni che siamo a secco. Cioè, una bella vittoria da palcoscenico ci vuole. Vincere la Champions League mi sembra un filo eccessivo per quest'anno. Non ci siamo ancora vicini. Con molta calma. Prossima telefonata. Pronto. 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 Ciao. Ciao, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo, dici tutto. Allora, volevo dire innanzitutto farvi complimenti per il cortometraggio che avete fatto su Tonali veramente fantastico. Grazie mille. Gentilissimo. Complimenti. Il sogno rossonero. Bellissimo. Bravo. E poi volevo dire, rispetto a quello che ha detto il telespettatore di prima, che io sono orgoglioso di questa società. Perché è proprio questo che deve fare una società seria. Lavorare, ottenere risultati e non basare le altre cose. Le altre cose è lasciarle ai giornalisti, ai tifosi. Noi abbiamo una grande società sia per le scelte che per il modo di comportarsi. Io sono veramente fiero. E l'ultima cosa che volevo dirvi della nazionale, io guardo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo rispermesso Tonali. Ok. Va bene. Grazie mille. Quindi il bicchiere era... Ciao ragazzi, complimenti. Ciao. Ciao ancora, grazie. Ciao. Il bicchiere era del Milan, non era della nazionale, perché vedere un bicchiere mezzo pieno per il nazionale. In cui ci sta benissimo anche la montina. Sì, sì, adesso stai continuando a dare l'assist. No, ma perché? Io ho questa bottiglia con riflessi, quindi siede bene proprio anche tutto il colore. Io vorrei aprirla. Eh, cioè capito. Agitarla e aprirla. Poi sono le 4,40. 4,40. No, quello lo farà Max Verstappen alla fine del Mondiale, avendolo già vinto. Complimenti al giovane ragazzo olandese. C'è del manivantismo. Però sono le 4,40 e quindi si sta arrivando verso l'orario aperitivo. Ci stiamo addentrando. È sempre l'orario aperitivo. Tra l'altro. E allora il Natale si avvicina, caro Enrico Iani, guarda come sono spontaneo. E mai come quest'anno sarà bello fare un bel brindisi a tinte rosso nere, si spera. L'anno scorso l'abbiamo fatto da primi in classifica. L'anno scorso con Teo Hernandez. Con Teo Hernandez all'ultimo secondo o con la Lazio. Ringrazio Teo per avermi fatto far fare tutto Natale senza voce. Dalle cantine di La Montina proprio. Arriva sulle vostre tavole il Franciacorto rosso nero. C'è quello che vedete in mezzo al nostro tavolo. Il vino scelto dal Milan per ben sette stagioni consecutive. Sette. Come. Non è un numero a caso. Esatto. Come i nani. Per rapire. Ah no. Non per quello. Come le Champions. Ok. Per rapire i palati dei tifosi rosso nere sencere con i brindisi in casa Milan. Che sarebbe bello fare anche a maggio i brindisi. Non solo a Natale ma anche a maggio. Franciacorto rosso nero è disponibile in diversi formati. Questo è quello da 075 quello che stiamo vedendo. Quello classico diciamo. Sì. Lamontina.com slash negozio. Se volete avere un piccolo sconto fino al 15 di dicembre. Quindi avete all'incirca poco o meno di un mese. Non di più. 28 oserei dire giorni. 30 giorni a novembre. Quindi sono 28. La montina radio rosso nera. Lo mettete nel box legato al codice sconto. E avete un 10 per cento di sconto per portarvi a casa il vino del Milan. Che volete di più? Niente. Berlo. Con un 10 per cento di sconto poi comprate i bicchieri per berci dentro il vino. Quindi è tutto. Tra l'altro se volete comprarlo per regalarlo a noi ci sta. E spedircelo volendo potete farlo. Tra l'altro ti scrivono sciabola Ema. Potrebbe essere un'idea. Con naso l'ho già detto. Ma perché? Non sono le caratteristiche ergonomiche per sciabolare con naso. Però sarebbe bello. A un certo punto dal tavolo e via. Ma potremmo farlo effettivamente. Assolutamente sì. Sono d'accordo con Daniele che scrive 293 online e solo 77 like. È una vergogna. Assolutissimamente sì perché è gratis. Non vi costa nulla. Fa girare la nostra diretta. La fa salire nelle home, nelle baccheche dei vostri amici interisti che così rosicano. Che sono ancora meno 7. Quindi continuate e soprattutto iniziate a mettere like e a condividere il video e iscrivervi al canale se siete nuovi. Ed è la prima volta che ci seguite. Grazie mille. Seguiteci anche ovviamente su tutti anche i nostri social. Chiocciola Radio Rosso Nera sia su Instagram che su Twitter. Gol. A proposito di Brindisi potrebbe esserci a breve un Brindisi in quel di casa Milan. Cioè legato al rinnovo di Stefano Pioli. Insomma un casa Milan in quel di Brindisi. Anche. Spostare la sede a Brindisi non sarebbe male. Un'idea. Ieri c'è stato un incontro presso l'hotel Bulgari a Milano. Sede ormai del calciomercato. Perché prima o poi anno dopo anno li battezziamo tutti gli hotel. Ormai da qualche da qualche sessione. Anzi in realtà non siamo nemmeno in sessione di mercato. Però è un hotel frequentato molto dai procuratori. Incontro tra gli agenti e Stefano Pioli. Ieri in quel dell'hotel Bulgari. Quello che insomma è venuto fuori è che il Milan è molto vicino al rinnovo del mister. Sembra si stia aspettando solo e soltanto il ritorno di Ivan Gazzidis. Però dalle parole del mister nei giorni precedenti. Dalle sue conferenze stampa. Da quando ha ritirato il primo Lidl. Se non è oggi non è domani. Se no sarà dopodomani. Ma il Milan e Pioli andranno avanti. La mia avventura al Milan non ha una scadenza. Per quello che ho in testa io. L'importante sarà mettere la firma sul rinnovo. Quello si è faldo con tanta qualità. Va bene. Vuoi brindare allora? No no. Dopo. Vado a fare aperitivo e brindo. Va bene. Il mister quindi probabilmente rinnoverà. Vedremo gli altri. La banda del 2024. Invece cosa vorrà fare della propria carriera. Mancano i like perché manca Bea. È vero. Manca Bea. Di solito mi dava lei Manforte sulle mie tesi. Sul vino? Sul vino mi dava Manforte da sempre. No però sulle mie tesi mi dava Manforte lei. Mi sento un po' spiazzato. Solo all'angolo. Dite a Emma di mettersi una parrucca. Forse i like aumentano. Capelli lunghi. Mi vesto come Damiano di Maneskin se volete. Beh. Tra l'altro i Maneskin se li invitano alla sagra della Polenta la vincono anche quella. Ma non l'abbiamo licenziata raga. È sempre stata in onda. È in redazione. H24. 365 giorni l'anno. Da sempre. Non ancora. Per un giorno. Non ancora quanto meno. Non ancora esatto. Manca poco. Però per un giorno che manca può anche avere un piccolo contrattempo. Lei non è che bisogna per forza licenziare le persone. In questo caso è stata licenziata. Ma andiamo oltre. Sì. Di cosa stavamo parlando. Ah dei rinnovi di contratto. Ieri è intervenuto qua sulla direzione. Se lo siete persi c'è la pillola. Alfredo Pedullà. C'è il podcast. C'è la diretta. C'è la pillola. C'è l'articolo sul sito. C'è tutto. Che a proposito di rinnovi ha detto che ci sono buone sensazioni per quanto riguarda Alessio Romagnoli. Che vedete in ambie di rinnovo. Tra l'altro è giusto. Togliete la parte economica che è sostanziosa. Rinnovereste dal punto di vista tecnico? Sì. Sì. Vedi adesso. Perché me la ricordi. Non so se ne offesa più per lei o per te. Direi per lei. Sì dai. Anzi dato che mi hai chiamato Bea, Alessio mi raccomando. Seguilo sui social. Alessio mi raccomando. Cosa? Lei lo dice sempre. Di rinnovare il contratto. Perché ci sta. Dai ci può stare. È una scelta giusta per la sua carriera. Per quello che lui ha dato al Milan. Per quello che il Milan ha dato a lui. Per quello che sta dando anche al Milan. Perché gioca tante partite. Visto che Chier va centellinato. Quindi direi che ci può stare. Naturalmente. Cosa scrive Luca? Mi fa venire la nostalgia. Ovviamente. Siete matti. Che obbligo di riscatto? No. Vai avanti. Ma ragazzi. No. Dicevo. Ci può stare il rinnovo. Ci può stare assolutissimamente. Sarei contento che se dovesse rinnovare a cifre inferiori diciamo. Quindi va bene così. A proposito invece di Romagnoli, di rinnovi e quant'altro. Ho già parlato il suo agente. Cioè. Mino. Raiola. A proposito di qualcosa che avevamo già anticipato in passato. Cioè. Il fatto che non la UEFA. Ma direttamente la FIFA. Stia cercando di regolamentare un pochino meglio la questione procuratore e quant'altro. Oggi Mino è andato così in simpatia. Ha detto due frasi delle sue. Di quelle poco pesanti. Sulla FIFA. E su chi lavora. Soprattutto in FIFA. E chi la presiede. Cioè Infantino. Che tra l'altro parla in Esperanto. Cioè in quella lingua che. Che non esiste. Che non esiste. Ma che poi. In un modo o nell'altro. Capiscono un po' tutti. Ma. Al di là di questo. È un'idea. Che coinvolge molto il Milan. Ve l'avevamo già. Eh. Prenunciato ormai. Qualche mese fa. È in estate. Chi da parte dei club. Ha spinto. E sta cercando di disegnare. Insieme alla FIFA. Tutto questo. È proprio il Milan. Nella persona di. Di Ivan Gazzidis. Quindi. Tra parentesi. Se per caso. Si ballerà. Nei prossimi mesi. Perché magari. Qualche. Che ha detto ai lavori. Della stampa. Amico di. Di procuratore. Senza far nomi. Ma anche all'estero. Certo. Ti tira un po' la giacchetta di qua. Ti fa il nome di là. Il titoletto di qui. È perché. Perché. C'è un po' di movimento. Boli movimento. Movimento. Nel caso. Non vi agitate. Se succede qualcosa. Ma è perché. Insomma. Classiche lotte di potere. E di qui di tanti soldi. Veramente. Tanti tanti soldi. Eh. Al dire di questo. Potrebbe essere. Forse. L'ultimo. Gli ultimi mesi. Nel caso di. Mio. Raiola. Al Milan. Mmm. Boh. Sì. Formalmente. Per me no. Perché sappiamo. Che il numero 11. Decide lui. Fa un po'. Per conto suo. Come si dice. Dalle mie parti. Però. Per me. Cioè. Io ho la sensazione. Che Ibra giochi un altro anno. Sì. A meno che. Ma Ibra. Appunto. Ti sto dicendo. Formalmente no. Dipende se si qualificano ai mondiali. Secondo me. Per me dipende. Se alziamo o no. Una cosa. Perché se a maggio. Mettiamo la patch. La maglietta. Per me. Dice. Stop. Anche se per caso. A marzo. Dovesse vincere i playoff. Per me dipende molto da quello. Se non passa il playoff. Per me si ritira. Perché non ha più. Di costare. Per me si vince. Il 19. Si ritira. Va bene. Lo vedremo nel. Nel prossimo. Nel prossimo. Immagino che voglia fare. Voglio chiudere in bellezza. Cioè. Mi immagino che voglia fare. Un'uscita di scena. Di quelle proprio strong. Della serie. Sono tornato qua. Ho preso. Sti scappati di casa. Che. Che prendevano cinque pere. Dall'Atalanta. Li ho ricostruiti. Grazie a me. Grazie a Pioli. Grazie a tutto il lavoro. Che è stato fatto. Da quando sono arrivato io. Siamo arrivati qui. Ho vinto il campionato. Sono. Il più grande. Perché ho fatto questa cosa qua. Adios. Poi l'ultima giornata. Con chi è quest'anno? Se dovesse accadere. Non sto dicendo che accadrà. Non sto gufando. Non sta. Qua bisogna sempre specificare. Il giurale di ritorno è un po' diviso in tre tranche. Complicato all'inizio. Meno. In una fase centrale. E poi. La fase ultima. Ma c'è un ritorno. La trentottesima contro chi è? Te la vado a rileggere. Ma non era bellissimo. No. La nostra parte finale. No. Basta Cagliari. Sempre Cagliari alla fine. No. Sempre Cagliari alla fine. No. L'ultime partite. L'ultime quattro sono. A Roma con la Lazio. In casa con la Fiorentina. A Verona. E in casa con l'Atalanta. Cioè l'ultima è l'Atalanta. Il Milan. No. Scusami. E' Sassuolo Milan. Ma non c'è nessuno di così. Però va bene. Mi aspettavo che chiudesse in bellezza con un calcio dedicato e quando mi faccio un giocatore. Giusto per chiamare la sua superiorità. Beh niente. Non ci sono. L'ultime cinque sono appunto queste. Lazio Milan. Milan Fiorentina. Verona Milan. Milan Atalanta. Sassuolo Milan. Non facilissimo. Che bella chiusurina. La fascia iniziale invece. Inter e la Juve. Sì esattamente. Roma Inter e Juve. Ci sono Roma Venezia. Spezia. Juve Inter. Poi la fascia centrale è un po' più abbordabile. Juve Inter in una settimana o in tre giorni? In una settimana. Ok. Poi nella fascia centrale invece ci sono Sampo e Salernitano. Odinese. Napoli. Empoli. Cagliari. Bologna. Torino. Genoa. La fascia di media classifica. Quel bel bloccone di punti dovrai fare lì. Che poi è quello che decide sempre le cose. Potessi farne quattro partite dovresti farne quattro partite. Eh sì assolutamente sì. Se ci fosse il giro veloce si potrebbe. Eh sì. Una speed race. Eh sì. Sprint race. Sprint race. Scusate. Siamo uniti. Vogliamo essere considerati. Non siamo una banda di idioti che vogliono il male del calcio. Siamo qui per difendere i nostri interessi e quelli dei calciatori. Nessuno ci ha obbligati a farli agenti. Ma se ci siamo significa che il sistema ne ha bisogno. Fino ad ora abbiamo subito offese infondate dalla FIFA. Penso che l'Italia sia l'unico paese con la Francia che ha regolamentato tutto con la legge dello status. Che si può migliorare. Poi prosegue. Oggi è stata una una battaglia più grande del mercato. Queste. Vabbè l'ha detto. Stronzate sugli agenti. Dobbiamo cambiarle. Se no poi qualche ignorante crede che sia vero. Secondo me le stronzate le dice solo la FIFA. Fino ad oggi dalla FIFA non ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per essere membro della FIFA deve essere ignorante in partenza. Noi siamo qui per difendere la nostra categoria anche se a qualcuno non siamo simpatici. Il 90% delle persone non sa cos'è una gente. Questa è una battaglia più grande di me ma è un qualcosa che voglio lasciare al calcio. Caspita è un regalo che fa il mondo. Sì. Voglio lasciare un'industria nuova, un modello... Ma ti prego no. Un modello nuovo a cui anche noi abbiamo partecipato. Diciamo cose che fanno bene al sistema calcio e ai giocatori la nostra categoria. Allora... Così in punte di fioretto Gimino Royola. Io ho sentito di dire una sola cosa. Quando ha detto se... Rispondo tra virgolette alla frase se gli agenti esistono un motivo c'è. Con tre parole. Kevin De Bruyne. Che ha dimostrato che gli agenti servono virgola. Perché è andato a rinnovare il contratto lui e l'analista. Ti riporto però una frase... L'analista non mentale. L'analista... Una frase che credo proprio di Zlatan Ibrahimic se non ricordo male. Che disse a Raiola se fossi forte tu non mi serviresti. Ai tempi. Cioè il calciatore molto forte probabilmente non ha bisogno della gente. Il calciatore che si deve vendere ha bisogno del venditore. Si vede Zlatan cosa sta facendo infatti negli ultimi anni. Cioè decide lui quando e come deve rinnovare. No ma va bene però... Se esistiamo un motivo c'è... Ripeto virgola. Per me. Beh è comunque un'idea nata anche dai calciatori stessi e che si fanno rappresentare da qualcuno. Ma c'è una cosa che fa riflettere quello che ha detto Raiola. Cioè il discorso del... Se non sei della FIFA... Cioè per essere da FIFA devi essere ignorante in partenza. In realtà è un po' tutto il sistema calcio che è così. Cioè in gran parte il sistema calcio è composto da gente ignorante. Nel senso non preparata a dovere per le sue funzioni. Da alcune società, da alcuni direttori sportivi, dai giocatori stessi, da molte... Serve creare proprio una cultura del mondo del calcio che aumenti la competenza. Perché a volte si entra ancora nel calcio un po' troppo per entrate secondarie. Perché fa comodo ad alcuni mettere dentro alcune personalità. Ma poi la gente che ha veramente la competenza per far migliorare il mondo del calcio viene sempre un po' respinta in tutti i sistemi. Quindi il mondo del calcio è così e non vuole evolversi perché non vuole. Perché la gente fa comodo che rimanga così. Perché l'evoluzione comporta una maggior cultura, una maggior competenza. E la gente che al momento non è competente non è disposta ad evolversi perché non è in grado. Quindi è un po' una cosa che fa riflettere ma è una cosa vera in tutto quello che ha detto Raiole. Henry, ultimi due minuti. Sì. Visto che abbiamo messo un titolo, lo vorremmo spiegare? Sì, no, semplicemente... Semplicemente il Milan verso Firenze penso che non ci sia niente da spiegare. Nel senso che sabato giocheremo sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Diaz verso Madrid col punto di domanda perché AS riporta di un Real Madrid, AS.com riporta di un Real Madrid che è come quando vedi la tua ex che gira con un nuovo ragazzo che è tutto in tiro e dici wow però non era così male e loro hanno fatto così con la nazionale nel senso che hanno visto Brahim Diaz in... D'altro con la quattro, non ha giocato ma va alla quattro in panchina. Sì, hanno visto Brahim convocato dalla nazionale spagnola e hanno detto... Ma quello era nostro. Ma quello ce l'avevamo noi. Aspetta un attimo. Cavoli ma sembra pure Bravino. Aspetta ma ce l'abbiamo ancora noi formalmente e quindi vorrebbero da quello che riporta AS.com riportare a Madrid il buon Brahim Diaz che però insomma da quello che si evince dovrebbe rimanere per tutta la durata del prestito e eventualmente anche per il riscatto se il Milan vorrà riscattarlo. Ricordiamo che c'è il diritto di recompra da parte del Real a credo 5 milioni in più rispetto alla cifra del riscatto che sono 22,19 perché 3 sono di prestito per il diritto 27 invece del riscatto che è però esercitabile solamente entro un anno se non erro dal riscatto del Milan quindi il Real Madrid avrebbe anche poco team. Non è che può aspettare che questo diventi un nuovo Maradona e poi lo compie. Anche a proposito dei numeri 10 ho uscito un grande podcast, cioè un podcast su un grande giocatore un grande podcast su un piccolo giocatore no, è un giocatore che ha vinto qualche Champions League diciamo che è Clarence Edorf se Kevin ha il contributo in regia volevamo mandare un piccolo estratto poi il link lo trovate qui in descrizione su tutte le nostre piattaforme podcast il professore diventa rettore grazie a quella cavalcata trascendendo ogni logica, critica, dubbio attraverso prestazioni monumentali con insegnamenti di calcio e risultando decisivo in ogni zona del campo fino a quella realizzativa con le due epiche reti che hanno contraddistinto la cavalcata verso la coppa dalle grandi orecchie quella deliziosa seconda solo all'assit di tacco per la realizzazione di Pippo Inzaghi nella notte di Monaco di Baviera e quel fantastico gol quello che portò sul 2-0 i rossoneri nella partita perfetta del 2 maggio 2007 contro il Manchester United in quella semifinale di ritorno di Champions League che proiettò i rossoneri ad Atene verso l'Olimpo degli Dei del Calcio ancora una volta Inzaghi non ci arriva, attenzione a lievite, Edorf, prova a liberare il destro, Edorf, vai percussione, il tiro e questa appunto era la piccola pillola legata al podcast di Clarence Edorf che trovate sia qui nella descrizione che sulla nostra pagina Spreaker su tutte le piattaforme, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes piattaforme social perché l'abbiamo promosso anche su lì quindi basta cliccare sul link ve l'abbiamo facilitata il più possibile Clarence Edorf, professore e tre maestre Ema, grazie ma non del podcast, di tutto, anche della trasmissione di vivere assolutamente grazie Enrico Boiani grazie a voi, vado a fare aperitivo tu che hai il cavatappi sempre dietro in borsa adoperati eh la sai lunga? la sappiamo lunga? no, perché l'abbiamo finita qua ci ritroviamo direttamente domani mattina alle 10 con Chiamamiran e tutti gli appuntamenti del giovedì grazie a tutti per essere stati qui con noi buona serata e a presto ciao Natale è il periodo per stare con i propri cari rilassarsi ma anche brindare con la propria squadra del cuore porta sulla tua tavola il Franciacorta Rosso Nero lo spumante dei milanisti scelto dal club stesso per festeggiare i propri successi la bottiglia è vestita rigorosamente dei colori della squadra il rosso e il nero e custodisce un prezioso Franciacorta Brut un vino versatile e avvolgente Franciacorta Rosso Nero è anche il regalo perfetto per i tuoi amici milanisti cosa aspetti? acquista subito su www.lamontina.com slash negozio e con il codice Lamontina Radio Rosso Nera tutto attaccato avrai diritto al 10% di sconto e vai Milan! gol 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 e poi segna un gol incredibile il gol dai ragazzi! e il gol dai ragazzi! Rete! 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 Rete